Musica Sorpresi con le mani nel sacco, due topi d'appartamento sono finiti in manette questa notte. È successo attorno alle tre in via Marco Perenio ad Arezzo, dove due uomini di origine romena, un 39enne e un 22enne, sono stati fermati dagli agenti della squadra volanti della questura di Arezzo dopo aver messo a segno un colpo in un garage. I poliziotti stavano pattugliando la zona quando hanno notato in una traversa di via Marco Perenio due persone in bici, che alla vista degli agenti hanno tentato di scappare, ma sono stati prontamente bloccati e controllati. I due sulle spalle avevano uno zaino a testa, nel primo gli agenti hanno trovato vari arnesi da scasso, cacciaviti, tronchesi, lastre in plastica utilizzate per l'apertura delle porte e passamontagne ed infine una torcia elettrica. Nell'altro zaino invece è stato ritrovato il bottino che i due ladri hanno riusciti a portare via. Monete da collezioni in oro e argento, un orologio in oro ed infine un aspirapolvere dal valore complessivo di qualche migliaio di euro. Da un rapido sopralluogo effettuato nelle vicinanze, gli operatori della volante sono riusciti a risalire ad un garage dove i due avevano appena compiuto il furto e dopo aver contattato il proprietario gli sono stati riconsegnati gli eccetti trafugati. Per i due ladri già gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio sono così scattate le manette per furto aggravato in abitazione e possesso di oggetti atti allo scasso. Questa mattina si è svolto il processo per direttissima. I due sono stati condannati a due anni di reclusione con il beneficio della sospensione e 800 euro di multa.